Salve a tutti, oggi vi parlerò di una partita giocata tra Giovanni Fava e Mirko De Grandis L'apertura è la numero 85 considerata una 2N e comincia con 22-19, 9-13 e 26-22 Qua il nero decide di attaccare verso la sponda, il bianco chiude, il nero dà il primo cambio e il bianco fa lo stesso creando appunto questa struttura abbastanza solida il nero avanza, poi viene fatta 32-28, poi viene fatta 11-15, molto interessante qui viene spinta la 21-18, 7-11, 28-23, qua il nero pure consolida la sua struttura e qui viene fatta 31-28 che non è la principale, anzi è un'imprecisione perché la principale sarebbe 23-20 e questa è considerata un'imprecisione del vantaggio al nero che ovviamente lo sfrutta facendo 12-16 ora il bianco attacca la 15 però qua è facilmente difendibile si crea purtroppo questa diciamo posizione abbastanza sbilanciata dove il bianco si mette a lato il nero fa 15-20, ottima mossa per andare ad attaccare da questo punto oppure se il bianco fa così il nero entra quindi l'unica mossa è 27-23 che viene fatta appunto per bloccare a meno questa pedina però qua si crea una posizione molto sbilanciata rispetto a quella del nero che è molto solida infatti qua il nero ha il vantaggio di 124 ecco un vantaggio da vittoria diciamo secondo il programma ovviamente questo vantaggio è consolidato se le mosse sono appunto perfette infatti qui è quello che succede ora viene giocato a 10-14 13-9 per il bianco e 6-11 cercando di arrivare a questa posizione per bloccare più pezzi possibili quindi il bianco glielo lascia fare infatti qua adesso al bianco resta soltanto questa mossa queste sono straimpedite quindi 25-21 qua il nero fa 3-6 molto molto importante per andare in 11 infatti qui l'unica mossa disponibile è 22-18 il nero la fa poi viene fatta 18-13 e qui il nero non si lascia prendere dalla foga di attaccare subito perché qui ci sarebbe la pari con 21-18 infatti al nero resta soltanto da prendere due pezzi perché ovviamente si cattura dove ci sono più pezzi in presa il bianco farebbe uguale qui ci sarebbe la pari però appunto qui il nero con sangue freddo fa 2-6 esatta proprio perfetta una mossa perfetta che attacca questo punto qui cerca di creare un tiro ora il bianco sacrifica un pezzo la 24 perché tanto questa posizione diciamo quasi perde un pezzo sacrifica un pezzo io sto cercando di andarlo a recuperare un giorno però qui t4-28 5-2 poi viene fatta 28-31 2-5 qui il nero arriva prima al pezzo infatti al bianco resta da fare la 13-10 poi il nero riattacca 5-10 e purtroppo 1-1 e 1-2 ora mettiamo caso che al bianco potrebbe qua il bianco si arrende però mettiamo caso che diciamo qua sono 4 pezzi contro 2 quindi anche se attaccherebbe qui anzi aspetta sì avevo visto male un attimo 3-7 qua si farebbe 11-14 allontanando questa dama e con questa si andrebbe tranquillamente a a vincere la partita in qualche modo 3 dame contro 2 si vince e quindi già da qui il bianco si arrende ebbene anche per questa partita è tutto e noi ci vediamo alla prossima